Bentornati su Bibliospot, io sono Giulia. Bentornati su Bibliospot, io sono Simona. Oggi vi spiegheremo come cercare un libro in biblioteca. Bibliomo è l'app delle biblioteche Unimore. Con Bibliomo puoi cercare libri, cd, dvd, sia scrivendo il titolo che fotografando il codice a barre. Puoi scoprire in quale biblioteca si trovano e se sono disponibili. Puoi controllare gli orari di apertura di ogni biblioteca e la sua posizione sulla mappa. Se quello che cerchi non è disponibile puoi prenotarlo. Con Bibliomo puoi condividere le tue ricerche in rete e commentare i libri che leggi. La app Bibliomo è disponibile sia per Apple che per Android. Scaricala subito. Bibliomo è anche online su bibliomo.it Per il momento è tutto. Arrivederci al prossimo Bibliospot. Al prossimo Bibliospot.